che si sfochi ma non è che sta male si deve sfocare quello che penso io è molto triste no ma secondo me non è quello non è quello io spero non è quello io mi auguro che non sia che bello vedere un ragazzo piangere ma chi piange più ragazzi ma sai che non piange più nessuno ti lo sai che non piange più nessuno e mi piange anche questo inghiozzo come un bambino ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorred e oggi parliamo del grande fratello VIP Pierpaolo in lacrime a consolarlo interviene Andrea e Cristiano Malgioglio vediamo che cosa è successo tutto è successo durante il tardo pomeriggio Giulia si accorge che Pierpaolo si è richiuso con aria pensierosa in sala quindi gli chiede se c'era qualcosa che lo afflingeva ma Pierpaolo parla di una tristezza generica a quel punto interviene anche Cristiano Malgioglio che prende il posto di Giulia e lo fa aprire la preoccupazione di Malgioglio è che Pierpaolo pensi ancora ad Elisabetta Pierpaolo però nega ma gli confida di sentirsi triste perché ha rimpensato al suo rapporto con le donne negli ultimi anni sono due anni e mezzo che ho un blocco ho qualcosa da risolvere è stata l'affermazione di Pierpaolo Cristiano risponde che qualunque ragazza vorrebbe un ragazzo come lui a quel punto arriva anche Andrea ed è lì che Pierpaolo riepiloga il rapporto con Elisabetta ho provato con lei le cose che si provano all'inizio al di fuori mi è già capitato ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti più di un mese o due Andrea gli risponde che il blocco è semplicemente dovuto a non aver mai trovato la persona giusta a quel punto Cristiano gli augura di trovare una ragazza che lo spinga a essere stesso e poi chiede come mai sia finita con la sua ex fidanzata e Pierpaolo risponde che i due si sono lasciati pur essendo ancora innamorati ed è lì che Andrea gli viene il dubbio che Pierpaolo possa stare male perché ha rivisto la sua ex fidanzata ma lui risponde che è stato il tempo a disposizione a fargli ripensare alla loro storia nonostante le varie supposizioni dette da Cristiano ed Andrea il ragazzo poi crolla e scoppia a piangere ma per fortuna viene consolato sia da Cristiano che da Andrea che gli consigliano di andare avanti più forte che mai senza farsi abbattere dai ricordi sia di Elisabetta che di Ariadna e voi che cosa ne pensate scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento ho concluso il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da Joe Red